Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy stanza 50 milioni di euro per sostenere gli investimenti produttivi nei comuni che hanno subito gravi danni dall'alluvione del maggio 2023. Un'iniziativa che è stata illustrata oggi nella sede di Confindustria di Pesaro. Le aziende marchigiane che potranno beneficiare dell'intervento sono quelle di Pesaro, Fano, Gabicce Mare, Urbino, Sasso Corvaro Auditore, Monte Grimano Terme e Monte Labate. I settori coinvolti riguarderanno manufatturiero, agroindustria, estrattivo, energetico, servizi alle imprese e turistico alberghiero. Marco Calabrò del Ministero delle Imprese ha spiegato da remoto le possibilità di un bando illustrato nell'occasione dall'assessore regionale Antonini e da Stefano Immune di Invitalia, agenzia ministeriale per l'attrazione di investimenti e sviluppo di impresa. Prevede il sostegno per un importo di circa 50 milioni di euro a favore delle imprese che intenderanno realizzare delle iniziative imprenditoriali nei comuni colpiti dalla Lugione. Quindi ci riferiamo ai comuni delle Marche ma anche a quelli dell'Emilia Romagna e della Toscana. Si tratta di progetti di investimento di tipo produttivo quindi per la realizzazione di nuove unità produttive, per l'ampliamento di unità produttive, per la riconversione o anche per iniziative nell'ambito dei progetti di tutela ambientale quindi decarbonizzazione piuttosto che investimenti in energie rinnovabili o anche per efficientamento energetico o anche per bonifiche. Questi investimenti dovranno avere una taglia minima di un milione di euro e potranno ricevere dei contributi a fondo perduto o anche finanziamenti a tasso agevolato. La particolarità di questo bando che poi uscirà è che sono invitati a partecipare non tanto le e comunque non solo le imprese danneggiate ma è una misura che di fatto è equiparata a come se fosse una zona di area industriale complessa che ha avuto dei problemi. Quindi quelli che saranno poi valutati sono dei progetti da parte delle imprese ricadenti nei sette comuni dell'alluvione del 2023, una misura di 50 milioni di euro che unisce l'Emilia Romagna, le Marche e la Toscana e soprattutto guarda ad alcuni settori specifici che sono soprattutto progetti di investimenti produttivi sulla ricerca di innovazione e sull'energia, sia in parte alcuni per le grandi imprese che per le piccole e medie imprese.